musica bene ragazzi siamo su inferno sospettato sta facendo 16-11 i terroristi stanno perdendo malissimo e questo è il pistol round ora vediamo come si svolgerà la situazione allora ah ok poteva essere fortunato quell'instant di prima molto probabilmente lo è molto probabilmente è fortunato è stato stranissimo è morto ancora prima che uscisse però poi come ha sparato non poteva avere né iMac né Wallhack perché è stato penoso qua sta condannando tutti gli angoli sto qui non penso abbia Wallhack oppure è un attore nato bravissimo ah l'ha vista l'ha morto bravo sono il problema spesso sono il problema spesso sono proprio i rumori che non si riesce a capire bene cosa sta accadendo comunque i terroristi ci credono ancora comprano bene e pushano banana con successo tra l'altro stanno entrando ce n'è uno ct ora lo sanno ed è anche morto e qua si sta esatto diciamo che i nostri terroristi stanno facendo una buona vita probabilmente lo hanno segnato per un comeback pauroso non so perché tra l'altro è il primo degli altri ma 11-19 ha fatto 80% di headshot si non è non è poco non è nemmeno tanto dipende un po' come e quando l'ha fatte dipende tanto da quello questo sta un attimo a molotov qua c'era uno stack banana ma l'ho visto l'ho visto e le hanno distrutti vabbè erano delle pistole delle più 250 contro delle dei mitra c'è anche da dire che forse bastava una kill e potevano farla perché di 5p250 uno poteva tirarlo visto che non hanno pushato benissimo è un po' sfigato il nostro amico taggato in questo modo ho visto ora che non c'è l'HOD eh niente è morto qua io non si ha 100% di headshot per ora però non sta facendo roba brutta per ora è normale con Macau stanno facendo molto bene un po' di prefire per pulire i punti peccato che da dietro li hanno presi male e qua gli antiterroristi hanno vinto il loro primo round il primo round l'hanno giocato non sto parlando molto perché sto cercando di capire cosa sta facendo c'è da dire si sempre in testa ma non spara male sto ragazzo e non ha wallack quindi boh ora vediamo il classico ricerca in spot cioè controlla tutto lui sta giocando bene è stata la prima kill non in headshot adesso però sto giocando bene non trovo nulla di sospetto qui ragazzi non so cosa state pensando voi ma a me sembra completamente pulito diciamo non compie nessun atto impuro controlla tutto ce n'ha uno dietro ora probabilmente muore perché non lo sa no l'ha controllato l'ha sentito forse l'ha sentito mi sa si è mosso proprio come uno che si è infatti vedete poi l'angolo di la guarda a sinistra a destra ce l'aveva a destra non a sinistra però ho capito appunto che non cioè non sta facendo cattiveria questo bravo sa come metterci sa come metterci senza senza ombra di dubbio cioè questo è uno che sa cosa sta facendo tutto lì è tutta lì la storia ha fatto una bellissima entry frag prima con lo scout e qui ragazzi la mia idea è proprio questa ditemi voi cosa ne pensate ma io direi che abbastanza cuore leggero potrei dare questo risponso per quanto abbia fatto tantissime chili in testa però sparava bene detto ciò ragazzi ci sentiamo al prossimo video e lasciatemi nei commenti la vostra idea all my friends are heathens take it slow wait for them to ask you will you know please don't make any sudden moves you don't know the half of the abuse oh you Grazie a tutti.